De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia, siena mi fe, disfece mi ma remma, salzi colui che n'ha nella tabria, disposando ma vea con la sua gemma. Allora sapete che questi bellissimi versi di Dante, in tutto sette versi, chiudono il canto quinto del Purgatorio e non cadono da nulla questi sette versi. Sono tra i più belli, insomma, i più anche celebrati dell'opera di Dante. Dov'è che siamo? Siamo nel Purgatorio, nel canto quinto. Non siamo ancora entrati nel Purgatorio vero e proprio, sappiamo che Dante struttura molto bene il suo viaggio nell'aldilà, quindi ogni regno dell'aldilà è complesso, diversificato, è ricco di passaggi. Allora, qui siamo nell'isola del Purgatorio, abbiamo oltrepassato la spiaggia, ci stiamo addentrando nell'entroterra di quest'isola, sull'orizzonte si vede emergere questo monte altissimo, ma ancora non siamo arrivati nel Purgatorio. Ciò che Dante e Virgilio vedono è in realtà un'enorme parete, praticamente impossibile sulla quale arrampicarsi. Immaginate, non so, lo sfondo del Mec, avete presente? Yosemite, ecco, quel tipo di parete liscia sulla quale nessuno, insomma, riesce ad avventurarsi a mani nude, anche se, insomma, ci sono dei casi di arrampicatori a mani nude famose che sono riusciti a fare anche quello. Però, ecco, nel caso della montagna del Purgatorio non è possibile arrampicarsi e Virgilio e Dante cercano un passaggio. In questo avvicinarsi alla montagna, nel cercare un passaggio, girando intorno alla montagna, si imbattono in delle presenze, in dei gruppi di anime. E ci sono tre gruppi diversi di anime che sono, insomma, ancora non pronte per entrare nel Purgatorio vero e proprio, perché all'ingresso del Purgatorio vero e proprio vedremo c'è un angelo, un angelo portinaio, un angelo custode, custode nel senso che custode di questo passaggio, che, diciamo, presiede la salita attraverso le vere e proprie balze del Purgatorio, quelle che portano poi al Paradiso Terrestre, alla purificazione dell'anima. E quindi a prepararla a questo lancio nello spazio siderale che la ricongiunge a Dio. Vediamo che esistono quindi tre tipi di personaggi. Ci sono gli scomunicati, ci sono i pigri e poi ci sono quelli del gruppo che Dante incontra in questo quinto canto, e cioè coloro che sono morti di morte violenta, perché hanno subito a un certo momento la forza, la violenza di altri e quindi la loro vita è stata abbreviata. Allora, il canto è molto bello, è strutturato molto bene. In realtà non parla un solo personaggio, parlano tre personaggi diversi, che sono, adesso vedremo, chi. Quindi abbiamo tre racconti, che hanno però qualcosa in comune di molto importante. Ricordano in qualche modo tutti e tre la grandezza della misericordia di Dio, ma anche la grandezza dell'animo umano, che è capace di concentrare tutto il significato dell'esistenza in un solo istante, in un solo unico istante, si decide l'eternità di un essere umano. Questa idea Dante non la inventa, in realtà la riprende praticamente così com'è, così com'è raccontata dal Vangelo, dove abbiamo il racconto del buon ladrone, che di fronte al Cristo morente compie un atto supremo di bontà. Riconosce in quest'uomo l'innocenza, chiede perdono, si riconcilia quindi con il suo passato, si riconcilia in qualche modo col mondo, e nella pace questo ladrone riesce anche, alla fine, a rubare il paradiso. Lo sappiamo perché Cristo stesso glielo dice. Oggi stesso tu sarai con me in paradiso, la promessa di Cristo. Quindi abbiamo, diciamo, mentre, insomma, come sapete si dice che non abbiamo la sicurezza che nessuno sia all'inferno, neanche Giuda, come ci ricorda Papa Francesco, però siamo sicuri sulla parola di Cristo che almeno un buon ladrone è stato il primo a entrare in paradiso, e che in qualche modo è riuscito all'ultimo istante a rapinare con un atto di vera umanità, di compassione e quindi anche di fede il paradiso, che altrimenti, insomma, probabilmente avrebbe perduto. Allora qui abbiamo delle anime che non sono ancora preparate per entrare in una purificazione vera e propria che le porta fino a Dio, cioè ancora non sono pronte, in pratica, a vedere Dio, neanche sono pronte a cominciare un vero cammino di conversione, perché è questo quello che è il purgatorio in Dante, è un cammino dell'anima, perché la morte, diciamo, se interrompe la vita terrena, non interrompe però il cammino dell'uomo verso Dio. È come se al di là della vita l'uomo sia permesso continuare questo cammino, continuare questo cammino per in qualche modo meritarsi, conquistare il paradiso. Allora abbiamo detto che però c'è la magia del tempo, c'è la magia nel senso che il tempo dell'uomo è prima di tutto un tempo interiore, e in questo senso Dante è un ottimo discepolo di Agostino, perché non è tanto la quantità del tempo che lo rende un tempo valido, ma è la sua qualità, il modo in cui questo tempo trascorre, con cui questo tempo viene impiegato. Allora dicevamo, abbiamo tre racconti simili e diversi di alcuni personaggi che sono morti per violenza. Quindi sono morti anche prematuramente, sono morti giovani, quindi abbiamo davanti una vita interrotta, delle promesse non mantenute, delle attese che sono state stroncate per un motivo o per un altro dalla violenza altrui. C'è stato cioè un ripido, immediato, improvviso distacco dal corpo che ha, diciamo, spento delle potenzialità di cui invece questi personaggi erano carichi. Come vedremo, il canto sarà carico di questo significato del corpo, anzi il corpo è uno dei temi importanti di questo canto, e lo vediamo dal modo in cui questi animi purganti reagiscono alla visione dell'ombra che Dante proietta davanti a sé. È l'unico, su quella montagna, che ha un'ombra. Questo significa che è l'unico che possiede un corpo. Quindi questo lo fai riconoscere immediatamente come una persona viva. E questi personaggi del Purgatorio non è che hanno nostalgia del corpo, ma ricordano la drammaticità dell'improvvisa separazione dal loro corpo. Diciamo, sono i personaggi di cui parliamo, sono Jacopo del Cassero, Buonconte da Moltefeltro e infine Pia. Tutto questo discorso lo stiamo facendo perché vogliamo convergere su un personaggio in particolare, sul personaggio di Pia. Ma, come spesso succede, non possiamo estrarre i versi di Dante dal loro contesto. È proprio il contesto del racconto di Dante che ci permette poi, in realtà, di commuoverci di più quando incontriamo poi il personaggio di Pia, quando ascoltiamo di nuovo le sue parole. Allora, Jacopo del Cassero è un personaggio che viene ucciso da sicari. Mentre, insomma, cerca di raggiungere Milano e cerca di ingannare, diciamo, i propri nemici politici, perché, insomma, sa di avere dei nemici politici giurati che lo vogliono morto, non riesce però, alla fine non riesce a sottrarsi ai suoi killer e viene raggiunto e ucciso in una palude. Il racconto di Jacopo del Cassero non lo trattiamo, però vediamo che viene sottolineato con evidenza drammatica la morte violenta improvvisa. Nel caso, invece, del personaggio successivo, Buonconte da Montefeltro, abbiamo anche qui un racconto breve, ma anche questo molto intenso e molto più personale rispetto a Dante. Perché? Perché Buonconte di Montefeltro era il capitano dell'esercito avversario nella battaglia di Campaldino che vide Guelfi contro Ribellini, una delle famose battaglie che decise il futuro di Firenze. E noi sappiamo che Dante quella battaglia l'ha vissuta in prima persona. Lui ha combattuto in prima persona in quel campo di battaglia, ha visto quella nube, quella pioggia che ha bagnato quel campo di battaglia e che avrebbe anche spazzato via, come sappiamo, il corpo di Buonconte. Ma la cosa bella di questo canto che vi segnano, cioè di questo personaggio, Buonconte di Montefeltro, è che il figlio di un altro personaggio è il figlio di Guido da Montefeltro, che invece abbiamo incontrato, se lo ricordate, leggendo l'Inferno, l'abbiamo incontrato proprio nel giro dei cattivi consiglieri, insomma, dalle parti di Ulisse per intenderci. E se ricordate bene, Guido da Montefeltro era stato assolto da un papa e aveva passato gran parte della sua vita da frate, ma si trova all'Inferno lo stesso. Al momento della sua morte si presentano a prendere la sua anima, San Francesco è un diavolo, un diavolo però molto sofisticato, intellettualmente, molto intelligente, molto logico, gli dice guarda, quest'uomo non può essere salvato, San Francesco gli dice, quest'uomo appartiene a me, non può essersi pentito, perché nel momento in cui è stato assolto, lui sapeva già di peccare, quindi, insomma, se la logica non ci inganna, è un diavolo rigorosamente logico, quest'uomo non ha pentimento, non ha vero pentimento, quindi in realtà appartiene a me. Ora qui nel racconto di Buonconte e di Moltefeltro abbiamo la scena opposta. Buonconte combatte in battaglia contro i Guelfi, capitano, insomma, della fazione Ghibellina, viene colpito a morte, si allontana dal campo di battaglia perché sente le sue forze venire meno, arriva fino, insomma, sulle rive dell'Arno e lì cade a terra, perde, non riesce più a muoversi, perde anche la vista, non riesce più a parlare, tuttavia riesce a dire un solo nome, il nome di Maria, e porta le braccia al petto, quindi incrocia le braccia al petto e vive un momento, invece, di vero pentimento. si presentano due angeli e questa volta, cioè si presenta il diavolo prima, questa volta invece si presenta un angelo e che riesce a prendere l'anima di Buonconte. E ovviamente è una rappresentazione drammatica, simbolica, allegorica, quello che volete, ma quello che Dante sottolinea è la possibilità che viene data dall'uomo con uno slancio del cuore, un unico slancio del cuore, in un solo istante, di compensare, diciamo, le imperfezioni e i peccati di una vita intera. Quindi la storia del figlio di Guido di Montefeltro, Buonconte, in qualche modo, è speculare, opposta a quella di Guido. Guido non si pente, Buonconte si pente e riesce a salvare la propria anima, a conquistare, in qualche modo, il paradiso. Non è ancora pronto il paradiso, è fatto di tornare al purgatorio, però la sua strada lo porterà lì. Allora, finalmente parliamo di Pia, perché Pia non viene presentata. Le parole che abbiamo letto all'inizio del video la presentano così. È lei stessa che si presenta con questi straordinari versetti, con questi straordinari versi, che immediatamente, immediatamente comunicano un senso di grande pace. Chi ascolta questi versetti e li rilegge provoca l'emozione di gentilezza e di pace che in qualche modo sono sempre legati nella Divina Commedia alla figura femminile. Infatti potremmo trovare diverse somiglianze tra il personaggio di Pia e un altro personaggio importante di cui abbiamo trattato, che dovremmo conoscere abbastanza bene, cioè Francesca da Rimini. Siamo nel quinto canto del Purgatorio, Francesca da Rimini l'abbiamo incontrata nel quinto canto dell'Inferno. Sapete che a Dante piacciono le simmetrie, perché insomma tutto il suo racconto è basato su un ordine cosmico, insomma, simmetrico, che però rappresenta anche la complessità del castello interiore umano, che comunque ha delle corrispondenze. e abbiamo quindi anche una certa gentilezza di Francesca che viene incontro a Dante, ricordate come un uccello che spiega le ali e si avvicina a lei con il suo amante al quale è eternamente legata, si avvicinano a Dante e hanno parole molto cortesi, molto gentili. Però c'è una grande differenza. Francesca non ha pace interiore, perché non è né perdonata, è all'inferno, quindi non ha perdono, ma né perdona. È qui che si vede la danazione di Francesca. Francesca da Rimini odiava profondamente il suo carnefice, il marito. Colpevole di aver stroncato la loro esistenza, Francesca non si dà nessuna colpa, come abbiamo visto, dava la colpa al libro, dava la colpa all'amore che non perdona, insomma, ma non sapeva assumersi di responsabilità, quindi era nella situazione appunto di un dannato, incapace di un esame profondo di coscienza, incapace di pentirsi, ma soprattutto tormentata, tormentata dall'odio profondo verso chi le aveva tolto la vita. Come insomma è in tutte le anime dell'inferno, sono tutte in qualche modo tormentate dalla privazione del bene, quindi dall'incapacità di amare, che spesso si trasforma in odio, quindi dall'incapacità non soltanto di essere perdonati, perché questa incapacità di essere perdonati e speculare all'incapacità di perdonare. Invece, nell'anime del purgatorio, che sono anime perdonate, emerge anche la dolcezza della capacità di perdonare. Questa è la preparazione, questa pace interiore che loro hanno, è una preparazione a quella grande pace che invece vedremo, vivono le anime del paradiso, le anime dell'Empireo. Allora, abbiamo detto, la figura della donna nella mia commedia sempre impersona quel lato della essenza divina, quella caratteristica di Dio, che è la dolcezza, che è la tenerezza. I versi di Dante su Pia sono tanto brevi quanto profondi. Perché? Perché questa profondità viene proprio dal sapore che ci lasciano, è proprio un'emozione estetica che ci viene dal racconto di Pia. Allora, chi è questa Pia? perché qui abbiamo soltanto un nome, abbiamo soltanto un nome, è come se fossimo di fronte a un'iscrizione di quelle che si mettono sulle lapidi di una tomba. E un po' anche questa è la sensazione di fronte a questi personaggi del Purgatorio. Allora, ciò che noi sappiamo di questo personaggio è tutta una ricostruzione ipotetica in realtà, quindi non abbiamo niente di certo e di definitivo. ma abbiamo una teoria abbastanza precisa che si rifà a quello che hanno riferito, ci hanno riferito in merito i primi, i più antichi commentatori di Dante che hanno subito pensato di rintracciare il personaggio di questa Pia attraverso proprio le informazioni che ci vengono date da Dante stesso in una certa Sapia Pia o Sapia dei Tolomei. Quindi questa Sapia apparteneva a una famiglia nobile e aveva sposato il signorotto della Maremma, il conte di Maremma che si chiamava Nello Pannocchieschi della Pietra, ripeto, sempre in base a quello che ci dicono le notizie d'archivio diciamo così dei commentatori antichi di Dante. Questo Nello Pannocchieschi della Pietra è anche un capitato guelfo, quindi insomma una persona potente della Maremma. Per quale motivo Pia è stata assassinata? Appunto dalle cronache che abbiamo da Nello. È stata assassinata non sappiamo bene perché ma i motivi i moventi sono principalmente due la gelosia e questo non è originale come elemento o addirittura il il crimine diciamo terribile di eliminare una moglie per sposarne un'altra. Cioè praticamente l'accusa che si fa a questo Nello è quello che per sposare Margherita Aldobrandeschi un'altra nobile donna di valore dopo che aveva diciamo annullato il proprio matrimonio con un certo Loffredo Caetani altra famiglia insomma sono tutte famiglie in un certo livello avrebbe defenestrato cioè buttato letteralmente dalla finestra la moglie non l'avrebbe fatto lui personalmente ma anche lui utilizzando chi fa il lavoro sporco cioè dei killer o dei sicari quindi insomma se volete uno squalido fatto di cronaca come purtroppo ancora oggi si leggono sui giornali uno di questi fatti di cronaca in cui la parte più debole è la donna che spesso è vittima della prepotenza maschile quindi come vedete quello che oggi noi chiamiamo femminicidio e che ancora è un elemento che intristisce la cronaca di oggi colpiva anche l'immaginazione e la fantasia degli uomini del Trecento probabilmente Dante conosceva questa storia fin dalla sua infanzia perché qui siamo verso la fine la fine del Duecento Nello Pannocchieschi della Pietra sappiamo insomma abbiamo dei dati sappiamo che era già capitano dei Guelfi nel 1280 quindi che è stato insomma in giro fino ai primi decenni del 1300 quindi questa storia doveva averlo colpito insomma profondamente proprio perché era una storia che aveva colpito la gente del suo tempo la Firenze del suo tempo dove si parlava molto anche come vedete di fatti di fatti di cronaca nera i versi sono molto belli perché fanno riferimento all'atto con cui Pia viene sposata Siena mi fe cioè sono nata a Siena disfecemi maremma come sa questo è riferito al disfecemi come sa colui che inanellata pria cioè che prima mi aveva inanellata l'atto dell'inanellare era l'atto che si compiva a casa della sposa quando si prendeva moglie cioè si facevano due atti la disposazio che era la scelta della moglie ovviamente fatta col consenso precedente del padre di lei e poi anche della sposa quindi si andava a casa della sposa si prendeva la sposa le si infilava l'anello come diciamo gesto che rendeva visibile questa scelta fatta della moglie poi le nozze vere e proprie si celebravano nella casa dello sposo insomma noi oggi anche quando facciamo i film insomma sul medioevo raffiguriamo spesso che si andava in chiesa davanti a un prete in realtà il matrimonio si svolgeva spesso fuori dalle chiese anche nel medioevo e comunque c'è tutta una storia a sé questo è il matrimonio però sappiamo insomma che era composto i due momenti cioè il momento del consenso diciamo così e il momento in cui si dava l'anello alla sposa salsi colui come sa colui che prima mi aveva inanellata sposandomi con la sua gemma è la gemma dell'anello e con queste parole la gemma vedete si chiude con una gemma questo bellissimo canto notate come Pia non abbia rancore non abbia rancore ha un grande desiderio come tutte queste anime di essere ricordata una memoria che diventa preghiera questo desiderio di essere ricordata infatti non è fine a se stessi non è il desiderio di essere ricordati dei dannati anche i dannati si raccomandano a Dante perché parli di loro nella di qua diciamo nella terra ma loro lo fanno per vanagloria lo fanno perché vogliono in qualche modo sfuggire alle tenebre dell'ublio cui costringe l'inferno invece nell'atto di ricordo di questi personaggi tutti i personaggi reali c'è il desiderio di entrare in contatto con i propri cari il desiderio di creare dei legami di consolidare dei legami e soprattutto il desiderio forte di poter superare se stessi e di essere aiutati da quel ricordo a raggiungere Dio è come se si salisse questa montagna del purgatorio ma non da soli sempre incordata sempre incordata incordata anche con i vivi anche con Dante che procede in questo cammino e quindi questa gemma chiude in maniera stupenda questo canto un'ultima cosa che possiamo dire appunto dicevo Pia non prova rancore però prova consapevolezza quasi un dispiacere per il peccato commesso dal marito nei suoi confronti lui lo sa lui lo sa di aver mancato la parola ma questa consapevolezza non diventa odio diventa in qualche modo speranza speranza che anche il marito possa trovare in qualche modo in questa consapevolezza anche la consapevolezza del peccato e quindi la richiesta e il desiderio del perdono va bene vedo che siamo stati fedeli in questa in questa diretta ciao a tutti ciao Oreano ciao Antonio e Lucia ciao buonasera a voi ciao Manuela ciao Oriana ciao Paola ciao Eliana insomma grazie a tutti per esserci per esserci sempre spero insomma di non avervi annoiato ci vediamo per la prossima diretta io vi chiedo insomma commentate aggiungete insomma quello che sentite di aggiungere e magari dite anche cose più intelligenti di quelle che ho detto io perché insomma siete tutti lettori appassionati della vina commedia e più vi piace questo gruppo anche postando commenti postando idee scambiandoci scambiandoci opinioni bene alla prossima ciao a tutti ciao a tutti